zona monte ortobertoni villetta con giardino privato cos'altro c'è da aggiungere ciao sono alan di garone immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa villetta in vendita iscriviti al nostro canale Siamo in Orto Bertoni e qui si trova questa villetta a terra cielo su due piani con un'ampia zona giorno open space con il bagno al piano terra e il suo giardino privato. Al piano primo sono le tre camere, il secondo bagno, due balconi. In più al piano interrato troviamo un ampio garage e due cantine. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!